Buonasera ragazzi, sono Antonio Rubino e vi do il benvenuto in un video di Antonio Rubino Official, dedicato a un film del 2023 con la regia di Alessandro Bardani ed è il più bel secolo della mia vita. Arrivato su Prime Video e che purtroppo avevo perso in sala a causa di una scarsa distribuzione. La trama è molto semplice e ruota intorno a Giovanni interpretato da Valerio Lundini che veste i panni di questo attivista determinato a cambiare le cose in Italia in quanto secondo un'assurda legge ancora in vigore e che esiste realmente o meglio è esistita la cosiddetta legge dei cent'anni. Ecco, secondo questa legge tutti coloro che non sono stati riconosciuti alla nascita non possono conoscere l'identità dei propri genitori prima di aver raggiunto i cento anni di età e Giovanni vorrebbe in qualche modo che questa cosa cambi e allora per suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica decide di rivolgersi a Gustavo, l'unico centenario rimasto in vita anch'esso non riconosciuto alla nascita. E' interpretato da Sergio Castellitto. Entrambi stringeranno un profondo rapporto e intraprenderanno un viaggio che li porterà in qualche modo a riscoprire se stessi e a interrogarsi sull'importanza di conoscere le proprie radici. Dunque il più bel secolo della mia vita è un film profondamente umano che tocca delle corde emotive particolarmente profonde e che in un certo senso fa riflettere su un tema piuttosto delicato come quello dell'importanza delle nostre radici. Cosa siamo come persone senza un'identità? Saremo nati in qualche modo e qualcosa ha in qualche modo influito sul nostro percorso di vita? Cos'è una persona senza un'identità? E' come vivere senza una lingua? E' qualcosa che ci costruisce, qualcosa che ci definisce, qualcosa dalla quale non si può prescindere. Così come senza la lingua non può avvenire la comunicazione con gli altri. quindi il film in qualche modo ci fa capire e fa capire allo spettatore quanto sia importante interfacciarsi, interfacciarsi scusate, con il nostro vissuto un vissuto in cui il termine chiave in un certo senso è la crescita e il film riesce a raccontare tutto questo grazie a una sceneggiatura abile e attenta la sceneggiatura coscritta tra l'altro dallo stesso Bardani il film ha un ottimo lato tecnico, abbiamo un montaggio, una regia, una fotografia di una grande polizia, molto buone le musiche e in generale la scenografia è piuttosto suggestiva. mi hanno colpito inoltre le interpretazioni, si nota la sintonia tra Valerio Lundini e Castellitto che formano un ottimo sodalizio e il film toccando anche dei temi molto profondi e lanciando anche dei messaggi molto belli riesce anche a colpire visceralmente lo spettatore l'ho trovato molto penetrante il più bel secolo della mia vita se all'inizio non pensavo questo man mano che la storia andava a svilupparsi mi sono reso conto che il film aveva molte più sfumature al suo interno infatti ho trovato questa storia molto toccante un film che riesce a far provare un range di emozioni diverse allo spettatore raggiungendo un equilibrio sul piano emotivo davvero encomiabile quindi almeno per me il più bel secolo della mia vita è un bellissimo film che nella sua ora e venti risicata riesce a catturare l'anima dei personaggi e a porsi all'interno di quel cinema dell'umano che ha saputo regalarci tante altre pellicole straordinarie come Scordato è nata per te di Fabio Mollo questo è tutto quello che penso a riguardo spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima recensione che uscirà a breve detto questo vi saluto vi auguro un buon proseguimento di serata un abbraccio e un bacio ciao ciao